c'è dio non vuole che si perda il nostro la nostra fatica vuole che si conservi perché comunque cristo ci ha amato ma prima che ci amasse il figlio ci ha amato il padre perché il padre che decide di dare il figlio quindi alla fine dio mandando suo figlio ha manifestato una volta di più la sua infinita misericordia verso le creature dando l'essere più amato da lui che era l'unigenito c'è dio è stato crudele con gesù gesù gli eletto padre sudava sangue gesù nello stress emotivo della paura di ciò che lo aspettava e chiede al padre padre se puoi allontana da me questo calice perché cristo nella sua umana natura cosa che compete comunque accade allo spirito quando si incarna dice cacchio qui mi frustano mi fanno a pezzi poi pure mi chiodono gesù non aveva un brandello di pelle attaccate più e la carne viva che camminava quello che ci ha fatto vedere nel gibson ancora non è tutto quello che gli hanno fatto a cristo perché le potenze infernali avendo dio dato il permesso si sono scatenate nella forma più feroce contro il figlio di dio un unico figlio perché lui ha creato l'unigenito no lui ha credo dio crea migliaia di animi di spiriti ma come essere androgino può generare un solo figlio perfetto che il suo specchio il suo doppio che non si deve evolvere nasce perfetto nasce già di sesta dimensione la sesta dimensione è la prima dimensione dove l'entità non può più peccare lucifero era di quinta stava per entrare in quinta di di quinta dimensione e ha sbagliato perché i cherubini hanno la perfetta conoscenza dio ma non hanno ancora il perfetto amore a dio quindi la perfetta conoscenza li può rendere arroganti in sesta dimensione c'è solo l'unigenito in sesta dimensione ci sono i cristici e ci arrivano tutti per questo cristo dice quando cristo ci dice voi siete dei e farete cose più grandi di me ci sta dicendo che nelle reincarnazioni noi supereremo anche la sesta dimensione arrivando a quella di dio che la settima quindi dice voi quando sarete nella settima farete cose più grandi di quelle che sto facendo io che sono della sesta dimensione c'è un serafino questo è il significato teologico ma la chiesa questo non lo sa spiegare